Il senso di appartenenza e la motivazione di ognuno viene sicuramente dai nostri prodotti ma viene anche dal modo in cui riusciamo a gestire il team, dal modo in cui riusciamo a capire insieme che lo scopo delle nostre azioni e del nostro operato è lo scopo di tutto il team e quindi da come queste due dimensioni interagiscono con successo. Il territorio in cui siamo nati racconta la nostra storia che è una storia di passione per le cose ben fatte, che è una storia di passione per la tecnologia e l'innovazione. Quindi ci è venuto naturale riuscire a preservare questa eredità e cercare di portare più in là la parabola della crescita che è crescita nostra ma è crescita anche del nostro territorio nell'ottica della sostenibilità e della responsabilità di imprese.